Nata come azienda operante prevalentemente nel campo delle ricerche geofisiche, nel settore petrolifero, la Calzolari Perforazioni negli anni si è sviluppata, fornendo oggi un'ampia gamma di servizi legati all'ingegneria del sottosuolo con l'utilizzo di tecnologie innovative. Dalle opere speciali di fondazione e consolidamento terreni, alla geologia tecnica, ambientale e del territorio, offriamo efficienza e qualità, ad enti pubblici, società e privati, sia in ambito civile che in ambito industriale. Fra i diversi campi di intervento, la protezione catodica è uno di quelli a più rapido sviluppo. Si tratta di una tecnica elettrochimica di prevenzione della corrosione che si genera sui metalli posti a contatto con ambienti e materiali aggressivi, quali terreni, acqua dolce, acqua marina, sostanze chimiche o calcestruzzo. La protezione catodica si applica su strutture metalliche già interrate, quali reti di acquedotti, metanodotti e oleodotti, senza nessun intervento specifico su queste ultime. Il diffondersi nella moderna edilizia di costruzioni di grandi dimensioni ha incrementato l'interesse verso i pali trivellati di grande diametro per l'utilizzo in fondazioni e contro i cedimenti, grazie alla capacità di questi pali di raggiungere portate elevate. Un altro tipo di intervento ampiamente diffuso sono i micropali, pali di fondazione utilizzati nel consolidamento generalizzato del terreno che hanno ottenuto un largo successo nei lavori di sottofondazione e nel campo degli ancoraggi. Il loro impiego è sempre più frequente nei lavori di fondazione grazie alla loro versatilità. Nella realizzazione delle opere di ingegneria civile si utilizzano preventivamente le indagini geognostiche, che consentono di pervenire ad una conoscenza approfondita e diretta del sottosuolo e alla caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni che lo costituiscono, condizione indispensabile per una progettazione il più possibile sicura e affidabile. Il carotaggio è essenziale sia per la ricerca di risorse minerarie, sia per scopi di ingegneria civile, e consiste in prelievi di campioni cilindrici di terreno a scopo di analisi. Calzonari da sempre pone una particolare attenzione al tema della sicurezza e della salvaguardia della salute del personale e dell'ambiente. La società ha oggi una struttura competitiva, in grado di soddisfare i bisogni di una clientela particolarmente esigente. Avvalendosi di personale di grande esperienza e disponendo di un parco macchine sempre aggiornato, in grado di operare in qualsiasi condizione logistica, è dotata degli strumenti necessari per eseguire sia piccoli che grandi lavori, riuscendo a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta della clientela. Grazie a tutti!